Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraft Ita e qui si sta scatenando il delirio Aspettate che è un casino, salutate Youtube? Scritto bene, no cazzo Ok, terribile, si sta scatenando il delirio universale Ok, va bene, ciao, ciao Free Perfetto, allora ragazzoli siamo su un server Tutti a giocare insieme a Thunder Games, trovate il link in descrizione Noi ci facciamo qualche bella partita insieme Così, giusto per giocare un po' insieme, dato che è estate, dato che io dovrei studiare, ma fotte sega Ci andiamo a fare un sacco di bellissime partite Bad Wars, pensavo Ecco qua ci è davvero delirio più totale, facciamo un bellissimo cellfone di gruppo da mettere proprio instant su Instagram Aspettate, dai, iPad poi perché il mio telefono ha fatto una finaccia Eccolo qua signori, tanti saluti Meravigliosi, meravigliosi, davvero tantissima roba E adesso, cos'è? Terribili Ok, perfetto, adesso sto volando? No, sono in F5, ok, perfetto Il Vediamo, questo video dovrebbe uscire verso le 18 Quindi almeno tutti, se siete nel video, giù di commenti, scrivete un bell'hashtag Sono nel video, una roba del genere Non lo so, sto tentando di andare a cercare qualcos'altro Perché Bad Wars attualmente C'è gente, questo, ah questo come funziona? Questo attualmente è chiuso Apertura breve, ok Quindi andiamo, sì, per forza Bad Wars Stiamo buggando praticamente tutto il server C'è lo spawn point che è devastato Dell'FFA Aspettate, guarda, ci facciamo un'altra partita Prima mi hanno massacrato veramente stramale Allora, c'è una mela d'oro che dovrò usare C'è una crafting 16 frecce E si sta per delirio Via, 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 no Perché poi la maggior parte della gente viene a farmi male E infatti, lo sapevo io Bavosi, bestie, bestie, bestiacce No, 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 non mi uccidete Ok, mangiato la mela d'oro Ma dai, ma è incredibile Mi stanno spaccando davvero stramale Ecco, io tento di andare più lontano possibile Ma non ce la faccio Ma poi laggo Sto laggando veramente tantissimo È morto di nuovo È terribile, guardate Adesso lo responiamo E cadi nel vuoto in maniera proprio Ah no, ok, no, stavolta ha funzionato Ok, buono, buono, buono Vediamo se riesco a fare qualche kill No, eh, tanta roba sto cosa Ah, lo rifaccio, lo voglio rifare adesso Via Via, così Via così Mi devo nascondere in qualche modo Ma non c'è lo sprint? Ma sono in ritardo Sta laggando E il server inizia ad avere seri problemi Perché Beh, d'altronde ci sono tipo 500 persone massimo E già ne sono entrate parecchie Tipo siamo a 250 Penso siamo a metà Dei gente che possa entrare nel server Quindi Sta faticando, sta faticando Poi col passare il tempo Penso imploderà Vediamo se facciamo implodere un server Qui c'è proprio carni da macello C'è gente Terribile Mori te Mori, 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 mori Vediamo se riesco a uccidere qualcuno Il primo Faccio festa grande Se ho ucciso qualcuno Vi giuro Dai, sì L'ho ucciso qualcuno No, non ho ucciso nessuno Morto No, no, no Uno l'ho ucciso Sono sicuro Uccisioni uno Infatti Morto quattro volte Ho ucciso una persona Il mio ratio è circa 0,25 Male di pvp Mi stanno male Ti aiuto Sì, sì L'ho ucciso Mori, 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 mori Mori, 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 mori Morite male, morite male, morite male, morite male Sì, sì, sono grande Dai, due l'ucce Ho dato anche la testina, 16 oro Sì, vabbè, però non venite tutti addosso a me Oddio, sto facendo i numeri straordinari Vi giuro, sono straordinario Quattro uccisioni, sei morti Sto riportando il ratio su Questa è stata... Questa ci voleva ultima Perché ti rigenera la vita quando massacri qualcuno Non ha tanta roba, sono felice Sì, ma mi sto ricordando che posso spam cliccare Ok, poi arrivano 6.000 persone e mi massacrano Ok, forse riesco a giocare ai Bedwars Perché mi vanno di nuovi comandi C'è stato un periodo in cui non mi funzionava, no? Cioè, non so per quale motivo Probabilmente Rank YouTube ha dato qualche problemi Vediamo se adesso i Bedwars funzionano Almeno ci facciamo una partita sui Bedwars Così, perché ci vuole Ecco qua tutta la gente che sta qua E... via In gioco, no, questa è in gioco Questa è in gioco, in gioco Tutte in gioco sono, niente Infine una Bedwars che... Va bene, niente Bedwars Perché sì, è vero che durano tanto Però... A parte sono tutti in gioco Quindi dobbiamo ancora aspettare Ci andiamo a fare un po' di function Di nuovo, salutiamo tutti Ciao ragazzi Guardate chi c'è venuto a trovare Chi? Io? No, non sono nessuno io in realtà Allora, qui è tipo terribile la questione Perché ci saranno 6.000 persone che vogliono Giocare con noi Allora, facciamo così Mettiti nella fly Slash fly Ok, sì, vado in fly E vieni a volare insieme a noi Fly Ecco qua, perfetto Allora, salutiamo e diciamo ciao a tutti Ciao ragazzi Vabbè, di nuovo, ciao Tutti 20 anni Eh, lo so Dai, noi facciamo una di queste Aspettiamo e dopo andiamo dentro Ma tipo io se posso Posso andare Anche tipo se vado a giocare In qualche gioco Per esempio Se mi vado a fare PvP Posso volare? No, non credo Non lo so Proviamo Andiamo dentro Dai, vai Facciamo Il massacro Guarda la gente che c'è Incredibile Che spettacolo Oddio, sono stracontento Che ci sia tutta sta gente Davvero Grazie a tutti i ragazzi Guardate Vi faccio una rapida panorama Di tutta la gente Che cazzo Siamo un esercito oggi Un grande esercito Va bene Ultima Dici Che cazzo Ah, ok Bis Rissa C'è un casino di gente Ok, bis È morto È crashato Ci ha salutato velocemente Detto questo Per prendere Libro Ok, perfetto Ecco, no Questo è soltanto Una roba Vabbè Volevo provare le Le fazioni Dato che è una roba Che in linea di massima Mi è sempre piaciuta Le fazioni Non ho mai fatto video Su youtube Non ho mai giocato Le fazioni Però l'idea Mi piaceva Non era male E allora ho detto Vabbè, perché no Ci possiamo provare Facciamo qualche Una roba del genere Qua Vediamo come viene fuori Sono appena uscito Dalla zona protetta Ha iniziato a spaccare Malissimo E va bene Va bene No vabbè Ok, si stanno massacrando Tutti veramente stramale Io tento una fuga disperata Non so se mai riusci Eh, poi mi laghicchia un po' Comunque no Dai, forse mi son salvato Aspettate O sono morto adesso O mi son salvato Sì, ok C'è una mandira di gente Che mi sta seguendo Vabbè Ci andiamo a vedere un po' Com'è la situazione Anche qui Il function È carino Bene ragazzoli Penso Vabbè Questo è stato un Un piccolo È esploso qua un creeper Un mister E c'è già gente tipo stravippo Ok Vabbè Ma è giusto che sia così È esploso un altro mister creeper Io me ne sto Palesemente scappando Da tutta sta gente Che sta tentando di massacrare Mi sono a due cuori di vita Il che è molto molto poco Qui ci sono delle grotte Vediamo se riesco a far cadere Qualcuno in mezzo alle grotte Tanto qualcuno ci cadrà Sicuramente Dopo aver girato tantissimo Siamo qua Ai bedwars Nel senso Io non che sia tanto Bravo Non mi sono neanche portato il cibo Adesso massacriamo Eccolo qua Massacrato male Insomma ragazzoli Abbiamo fatto un sacco di giri Abbiamo Ho avuto modo di salutare tantissimi Spero che Ragazzi Insomma Mi abbiate visto tutti Abbiate avuto modo Di vederci Ditemi se vi piace quest'idea E Perché no Potremmo tranquillamente Organizzare Delle giornate In Dei server Non sarebbe Cioè a me farebbe piacere Vedervi E stare insieme a voi Magari su un server A giocare così Fare qualche cazzata Ci divertiamo tutti insieme Diciamo Cazzate Roba varia Tutti Tutto Tutti Tutto insieme E potrebbe essere carino Ho fatto tipo 6500 selfie Una cosa infinita Adesso Facciamo anche un altro Un selfino veloce Mettiamoci in F5 Come al solito Adoro fare selfie Sui server Ne avrò fatti tipo 6 miliardi Eccoci qua Bravissimi Selfie Miteca selfie In F1 F2 Bim Selfone fatto Va bene ragazzi Insomma Questo è quanto Spero vi siate divertiti Fatemi sapere appunto Se vi siete visti Nel video Se vi ho detto qualcosa Se ci siete stati Insomma C'è Hashtag Io c'ero Se eravate nel server Iscrivetevi al canale Se avete già fatto Condividete il video su Facebook E farmi lasciare nuove persone Mi raccomando Passate tutti i link In descrizione Facebook e Instagram E noi ci vediamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi